buongiorno ragazzi oggi nuova giornata impegnativa molto impegnativa perché come dire abbiamo ristrutturato di nuovo tutta casa e qua abbiamo fatto una specie di palestra con una specie di salotto dove dobbiamo aggiungere un sacco di cose quindi comunque capitemi cosa devo fare devo aggiungere un tavolino qua delle piante e altre cose poi vabbè vedrete poi i vestiti sono degenerati cioè guardate i miei vestiti e guardate quelli di mio marito cioè queste due colonne sono le mie e queste cose sono il mio marito quindi figurate devo fare anche shopping per mio marito aspettate questo qua no ok poi abbiamo appunto comprato degli animali come vi avevo appunto detto perciò avendo comprato degli animali è molto più faticoso poi mia figlia io ho comprato questo giochino qui che è molto carino tra virgolette che lo voleva tanto lo vedeva sui video quindi glielo ho comprato poi il tablet vabbè l'abbiamo ripreso perché stava dalla nonna poi abbiamo comprato anche un exolotto qui bellissimo l'abbiamo messo qui in bagno perché comunque è la stanza più grande che c'è qui oltre il salotto barra palestra quindi comunque questa è abbiamo messo qui anche perché è un trasportino dove c'è che si può trasportare ovviamente tutte le parti che vogliamo perciò non è fisso qua ovviamente però vabbè devo parlare di viena perché mia figlia sta dormendo vabbè mia figlia questi pupazzi bellissimi abbiamo comprato altri vestiti da mia figlia altre cose abbiamo aggiunto questi cosi poi io mi sono comprato un botto di fasce niente poi qua vabbè tutto quanto e non so perché ci faccia la chiave di casa qui dentro dentro il mio portafoglio infatti questo è il mio portafoglio e questo è di mio marito il rosa è il mio e quello di mio marito vabbè è quello marrone e vabbè comunque io devo scendere devo andare a fare un po' di spese poi stasera dobbiamo andare al ristorante a mangiare e anche a pranzo oggi perché oggi non ho proprio niente visto che abbiamo fatto un sacco di cose un sacco di traslochi in cucina e tutto quanto perciò non ho proprio niente comunque ora mi vado a lavare perché non voglio non ho voglia di fare colazione visto che comunque non è che proprio voglio di fare colazione però vabbè qui c'è il lavandino perché non l'avesse visto o che ne so poi mi devo andare a comprare anche gli occhiali perché sì li avevo ma vabbè li devo ricomprare uguali perché si sono rotti quindi figuratevi vabbè prendo qua ovviamente mi lavo le mani vado a mettere questo qui poi poi mi vado a fare una maschera viso e ovviamente mi prendo l'accappatoio metto l'accappatoio ovviamente tutto questo lo faccio quando dormono tutti gli altri perché comunque così ho più tempo libero ecco qui così gli accappatori comunque li metterò qui sicuramente qui dentro perché veramente cioè mi sembrava una cosa un po' più ovvia cioè perché qua dentro cosa posso mettere penso niente comunque mi faccio anche un bel bagno accendo l'idromassaggio senza fare troppo rumore perché così mi faccio un bel bagno buon soldo ragazzi buon soldo ragazzi buon soldo scendiamo mamma mamma ma dove sapelo eh mamma non saprei ma sento l'acqua quindi probabilmente stare in bar Cagno a farsi tutte le sue maschere. Sai, no? Com'è tua mamma. Amore, però non fare casino perché c'è tua sorella più piccola che sta dormendo, eh? Quindi non fare troppo casino come il tuo solito. Oh, c'è Bauti! Oh, c'è Bauti! Ciao, Bauti! Perché non l'avessi capito il suo cane. E ti è il mio cannolino. Ah, papà, è di tutti. E di tutti però è il mio cagnolino. Faddi? No, no, tu non sei Fanny. Tu sei Bauti! Eh. La papà, lascialo dormire, dai che è presto. Ora... Devi andare in bagno? Ti... Va bene, allora aspetta un attimo in camera tua che quando mamma esce vai tu. Ok! Prendo il tablet. Il mio tablet. Guardate che calido il mio tablet. Va bene. È bellissimo, papà, eh? È l'auto. Vabbè. Comunque, ragazzi, questo qua è il peluche che abbiamo messo in mezzo al letto. Perciò non è un animale, ma è un peluche. Sì, è un peluche carissimo. E... E mi ho messo qua perché è troppo morbido. Quindi piace sia a me che a mia moglie. Quindi, comunque... Ok, ora basta. Mamma mia, ho fatto un bagno veramente... Wow! Mi rimetto... Mi rimetto... Qua il mio... Peggiama. E ora esco. Amore, buongiorno. Già con il tablet? Perché ti stavo aspettando a te che uscivi da bagno e io andavo in bagno per fare pipì. Va bene, allora posso il tablet, però. Ok, vado a fare pipì. Ma tu mi fai morire. Va bene. Comunque questi sono i suoi peluche, per dirvi. Poi li presterò anche alla sorella perché, poverina... Non posso, ad esempio, fare peluche. Poi li comprerò ovviamente pure a lei, non vi preoccupate. Comunque, a lei la faccio dormire perché, comunque, è piccolina. Io invece metto, metto, metto... Non so che mettermi, come sempre. Però penso che vado proprio su questo. No, anzi, questo qua lo metto stasera. Quindi questo qua per stasera. E me lo preparo qua perché... So che... E, ovviamente, mi vado a mettere la mattina qualcosa di un po' più. Questo qua. Anzi, non saprei perché. Vabbè, mi vado a mettere questo qui. Oppure... Un altro tipo questo qua. Quale mi metto, raga? Quale mi metto? Perché lo voglio abbinare tipo con questa fascia. Però penso che... Tutti e due sono bellissimi. Però penso che vado a mettere questo qui, perciò... Basta, che ho deciso. Almeno spero. Questo qui lo vado a mettere giù. Ce lo metto un attimo qui perché lo devo andare a lavare. Quindi, in pratica, questo è. E niente, allora... Sì, qua vedete il passeggino della piccola che... E ho tutto pieno di roba qua sotto. Vabbè. Ma chiudo bene la cassaforte perché, veramente... Ok. E, ragazzi, qua non ci dovete fare proprio caso. Quindi... Cioè, proprio qua non c'è niente di che, proprio. Io scendo un attimo solo io. Vabbè, no. Adesso l'aspetto un attimo perché, veramente... Però, comunque, già mi preparo la borsa. Perché, comunque, sapete, no? E niente... Ho fatto il calichiamo. Ho fatto il calichiamo. Ma mi lavo le manine, però, eh. Perché... Così mi ha insegnato mamma e babbo. Ho fatto, mamma. Lavate. Poi il profumo me lo metto. Mamma, babbo, metti il profumo. Vabbè, amore. Mettiti quello delle principesse. Aspetta che, ora, te lo prendo. Eccolo qui, mamma. Dai, tieni. Una spruzzata. Bravissima. Basta, ora, eh. Perché non devi esagerare con il profumo, tu. Cosa già che esageri. Oh, nanzi, è lavata? Ti... Ok. Allora, mamma, tu, oggi... Ti metti questo qui, ok? No, raga, sono pazza di questo vestito. Cioè, io lo adoro. Adesso la mia figlia. Cioè, guardate che carino. Oppure, mamma, ti metti questo qui. Ma io penso che è più bello questo. Ti è calito questo. Mi fa piacere a mamma. Comunque. Ora. Mamma, sveglia la sorellina. Sorellina. Tu mi fai morire dalle risate. No, ci bello. Aspettiamo. Amore a mamma. Sveglia, Emily. Bravo, ciao. Allora, Emily, lasciamo così, dai. Oddio, no. Oh, amore. Ecco qui. Ovviamente il passeggino lo porto io, con la borsa, tutto quanto, che tanto fa niente. Ora, mio marito si andrà a lavare, mentre io e la piccolina aspettiamo qua. Ok, relazione, è il turno mio. Mi lavo le mani. Mi lavo i denti. Poi vabbè, vado in bagno. Ok. E niente, è fatto, perché non sono come mia moglie, che mi metto le maschere, i cosi qua, che tiene, vabbè, gli esci. Come si chiamano i... Non lo so, vabbè, non mi ricordo. Però, vabbè, non mi metto tutta la roba, quindi faccio prima. Ok. Però ora mi vesto. Questo per stasera, quindi questo qua no, questo qua no, questo qua. Sì, dai. Perché stasera mi vestirò elegante, quindi... Aspetta, mamma, allora tu vatti a cambiare. Per mia figlia metto questo qui. Così almeno, praticamente, stasera si mette quello lì. Molto lì. Poi vabbè, il portafoglio di mio marito, sempre qua nella mia borsa. E niente, ora andiamo. Ok, eccoci qui ragazzi, siamo arrivati in questo ristorante, perché oggi mangeremo al ristorante di pesce, quindi comunque non vorrei esagerare ora. Perciò, prima di tutto metto... Sì c'è, aspettate, mo chiedo ragazzi, chiedo un attimo se hanno un banco da 4 con il seggiolone, perché... Comunque mia figlia è più grande... Ok, quindi Ale... Tio, ragazzi, io... Vabbè... Può stare anche qui sopra, perché ormai sono grande. Ecco, guardate. Invece mia figlia è più piccola, beh, Emily. È piccolita. Prova. Va bene, quindi deve stare nel seggiolone, perché sennò non può... Ecco, non può proprio fare niente. Perciò, niente ragazzi, mo chiedo. Mentre tu tesoro, prendi il posto, cioè prendi questo tavolo, almeno perché vedo che se c'è un altro tavolo. Aspettami qua, ecco. Va bene. Salve, buongiorno. Mi dica, buongiorno. Allora, vorrei prendere un tavolo da 4, da 4 posti, però comunque volevo dirle che... Mi serve un seggiolone per mia figlia più piccola, questa qui che vede. Ah, ok, va bene, va benissimo, ok, va benissimo. Un attimo, solo che chiedo al mio dirigente. Oddio. Sì, sì, faccia pure. Ok, ho chiesto al mio dirigente e mi ha detto che c'è... Però un tavolo da 4 con qua. Ah, sì, sì, mi va bene. Ok. Non vogliamo, mettiti qua, dai, mettiti qua, dai. Ok, bravissima. Allora, la borsa la lascio qui, ragazzi, perché non so dove metterla più. Il carrozzino lo lascio qui. Anzi, qui proprio. Io mi metto qua, mio marito, mia figlia è in mezzo. E queste siamo, ok. Ehm, sì, vabbè, qui ci sono già le cose che avevamo ordinato, perché sì, abbiamo ordinato proprio ieri. Ieri, che sto dicendo ieri? Stamattina. Però, ok. Io ho questo. Anzi. Io ho questo. Mia figlia questo. Mia figlia, vabbè, è più piccola, ha portato di mano il latte qui, perciò... Non così. E comunque questo. Poi ci hanno dato questi altri dolci, che comunque non è che sono proprio... Ok, io voglio bere un attimo a mia figlia, perché è più piccola, è che comunque... Ok. Ora mangiamo noi. Buonissimi. Allora, questi qui, io... Mia figlia più piccola... Non glieli voglio dare, perché comunque si appesantisce troppo dopo. Perciò comunque... Li mangiamo solamente io e mio marito. Ragazzi, è tutto buonissimo in questo ristorante. Ora non ci resta che pagare. Ok, ecco qui. Oddio. Oddio. Un attimo solo che... Devo prendere la borsa. Ok. Ok, ora possiamo andare. Buona giornata. Buona giornata. Ok, ragazzi, siamo arrivati a casa. Io prendo la chiave, ovviamente. Prendo il mio marito, perché sta più vicino. Ok. Qui abbiamo anche i monopattini. Perché comunque, raga... Quando andiamo un po' più veloci, così, per fare allenamento, così, correre un pochino, così, andiamo... Ci avviamo con i monopattini e poi andiamo a fare corsa, comunque, in una sala, così, oppure che vi devo dire, boh, non lo so. No, 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 non vi so spiegare. Comunque. Ragazzi, ci vediamo nella parte 2. In un altro video. Perché è durato un sacco, ma vi farò vedere fino alla sera, quindi fino alla mattina dopo, ecco. Che domani mattina io devo andare a maneggio, quindi devo andare a cavallo, perché sì, io faccio maneggio. Quindi comunque quest'è, quest'è. Poi in casa comunque ho l'ufficio proprio per, comunque, tutti questi lavori, ma faccio anche l'avvocato. Perciò comunque, certe volte a maneggio, certe volte no, perché comunque da maneggio lo faccio da poco. L'avvocato lo faccio già tanto, perciò quest'è. Comunque ragazzi, ci vediamo nella parte 2, proprio qui dove siamo lasciati ora. Ciao!